I nostri obiettivi, intanto la squadra di oggi non è ancora la squadra definitiva, quindi abbiamo bisogno di assestamenti, di provare, abbiamo tanti giovani nuovi, tanti nuovi ingressi. I nostri obiettivi sono quelli di fare, noi ci diciamo sempre meglio della stagione scorsa, dove abbiamo fatto terzi insieme alla Rivalolese, quindi se noi riuscissimo a fare terzi o secondi sarebbe già un risultato importante. Poi siamo abituati a prendere quello che viene, quindi se riusciremo a giocarci qualcosa di più, bene, saremo contenti, altrimenti cercheremo di fare la nostra sporca figura anche quest'anno.